Ciao ciao da Svidio! Allora, oggi sono qui nei panni del Poeta Incompreso per fare tanti auguri Cristian! Tanti auguri Cristian come è scritto anche qui! Allora, tanti auguri Cristian del canale Luciano Ferrari! Buon compleanno e tanti saluti cari! Quando giochi Istanbul Guys ti chiami Cribanana e passi dalle live tutta la settimana! Fai canzoni e tanti shorts sul tuo canale! E a volte video con un animale! Con l'altro account Erika Omassi ormai ti conoscono anche i sassi! Ti auguro il giorno più bello del mondo! Ok, non sarà un concetto tanto profondo ma ti voglio anche ringraziare perché mi hai dedicato del video sul tuo canale! Spero tu ricevi tanti bei regali per questo giorno speciale! E invito gli altri a commentare con degli auguri mica male! Stai con chi ti vuole bene in famiglia o con gli amici! E magari divertiti giocando o andando in bici! Ma ora ti racconto una storia che non ho imparato a memoria! Stai tranquillo, sarà corta, altrimenti poi dopo ti diventa fredda la torta! Va bene, la torta di sotto non è così fredda e calda! C'era una volta in un paese molto lontano un uomo che si chiamava Divano che un giorno incontrò in Canada una donna chiamata Sofà I due si sono innamorati, si sono sposati e hanno fatto tre figli dopo che due anni erano passati Uno l'hanno chiamato Comodino, l'altro maschio Cassetto e la femmina Scrivania e abitavano tutti in via Mobili Anna Maria Sapete un giorno chi va a trovare Comodino? Ve lo dico io! Suo cugino! Suo cugino che ha la sua stessa età ma è grande e grosso e si chiama Armadio e gli dice andiamo in bicicletta allo stadio? Mentre stanno pedalando a causa che era messo male un tombino cade dalla bicicletta Comodino e alla gamba si fa male un pochino Armadio allora chiama subito Divano con il suo cellulare per sapere cosa deve fare e gli chiede Mi scusi lo portiamo al pronto soccorso o dal falegname che c'è in via del corso? Eccoci! Fermiamoci qua con questa storia così ti saluto Spero che questo semplice video ti sia piaciuto Allora Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a Cristian Tanti auguri a te Buon compleanno! Ciao 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 ciao